benvenuti amici dall'orto fornelli oggi vi faccio vedere come cucino la pasta con l'humus e con l'humus intendo la crema di ceci non l'humus che usiamo per fertilizzare le piante dunque vi faccio vedere il procedimento dai ceci partendo dai ceci secchi sono questi qui vanno messi a bagno una notte e diventano così e scartiamo l'acqua di amollo facciamo bollire almeno un'ora e mezza potete saltare questo passaggio comprando i ceci in lattina già cotti e l'acqua di amollo la potete riutilizzare per innaffiare le piante non buttatela quando raggiunge il bollore abbassiamo tappiamo e abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere per almeno un'oretta e mezza ecco qua cotti i nostri ceci hanno impiegato più o meno un'ora e un quarto in realtà da secchi erano 220 grammi e da bolliti sono diventati 600 grammi conserviamo l'acqua di cottura perché ci aiuterà a fare la crema più liscia e il resto possiamo utilizzarlo per far bollire la pasta poi vi lascio le quantità anche qua sotto nel box informazioni assolutamente fondamentale per fare la crema secondo me è un limone e degli spicchi d'aglio possiamo anche aggiungere del pepe del cumino del coriandolo o del cardamomo per condire la pasta utilizzerò anche un pomodoro a crudo e delle peperoncino staglie di peperoncino e maggiorana quindi aggiungiamo il succo di limone gli spicchi d'aglio io ho privato l'anima interna il resto più leggero un cucchiaino di sale se utilizzate quelli ceci in barattolo sono già salati quindi usate meno sale poi le specie facoltative coriandolo cardamomo e cumino aggiungo anche un po di pepe ricopriamo con l'acqua di cottura dei ceci e poi iniziamo a frullare l'ho assaggiata secondo me mancava aglio proviamo adesso secondo me è perfetta nell'acqua di cottura dei ceci ci aggiungiamo il sale se non avevamo aggiunto già prima per la bollitura dei ceci e ci faremo bollire la pasta se è poca aggiungete un po di acqua mentre che la pasta bolle ho affettato il pomodoro aggiungo un pizzico di sale siamo pronti per la prova assaggio mi piace un sacco buonissima dovete provarla questa crema di ceci si sposa benissimo con i pomodori crudi alla pasta è una delizia e poi se usate i ceci già cotti in lattina ci vogliono proprio 5 minuti a farla per vedere altri video simili iscriviti al canale e se il video ti è piaciuto lascia un pollice in su ci vediamo alla prossima amici ciao 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 ciao